contro l'onore dell'Italia, perché l'Italia è disonorata. Con una legge come questa, l'Italia è disonorata. E' arrabbiato e incredulo per quello che sta accadendo nel nostro paese. Lui è Rosario Del Vecchio, padre di cinque figli, che per più di 37 anni ha servito lo Stato, prima come ufficiale di artiglieria e poi come insegnante di religione a liceo Galilei di Legnano. Dopo aver eseguito i tamponi dal mese di settembre per poter entrare a scuola, ora resterà senza stipendio perché non vaccinato. Il professore, da quasi un mese, sta facendo lo sciopero della fame e mangia solo pane e acqua per lanciare un messaggio forte e chiaro contro l'imposizione del governo. La premessa è che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. In questo momento il governo stesso italiano, appoggiato da tutti i partiti, quindi sono tutta la classe dirigente italiana responsabile, tranne proprio delle eccezioni, questi tolgono il lavoro agli italiani, tolgono i lavori ai militari che non si sottomettono a questa imposizione, che è una legge ingiusta. I docenti, i sanitari, è una cosa ingiusta. Allora, il mio sciopero della fame, sono al 28esimo giorno, sta a indicare questo. Popolo italiano non accettare queste ingiustizie. Popolo italiano ricordati che sei figlio di San Francesco, di Santa Caterina, sei figlio di Dante, sei figlio della tradizione romana, greca, cristiana, non puoi buttare via tutto. Allora, difendi la tua dignità, alza la testa, difendi i tuoi figli e dì che questa è una legge profondamente ingiusta. E questa legge, a proseguito del vecchio, deve essere ritirata perché ha spiegato è di una gravità spirituale e morale indescrivibile. E' una cosa scandalosa, vergognosa, triste, avvilente, avvilente. Io sono profondamente addolorato che i parlamentari italiani di tutte le tendenze stiano appoggiando tutti una linea burocratica, tecnocratica, finanziaria, che viene dall'estero, senza difendere la dignità italiana, l'interesse del popolo italiano. Chi vince le elezioni esprime un presidente del Consiglio e comandi. Invece in Italia no. Cioè il popolo italiano è andato a eleggere senza sapere che sarebbe andato a governare uno mai eletto, che non si è mai presentato neanche all'elezione di condominio. Ora, il più famoso, burocrate, finanziario italiano, comanda sull'Italia e tutti sono in ginocchio, lui può fare quello che vuole. Lui può fare quello che vuole. Lui non è un tiranno. È il tradimento del Parlamento italiano che ha portato a questa situazione. Ma il tema primario, ha poi aggiunto il professore, è che gli italiani non possono accettare questo. Le persone, ha dichiarato, devono alzare la testa. Hanno sfruttato un problema, un dramma, una malattia, migliaia di morti. L'hanno sfruttata per portare avanti un progetto politico, un progetto politico anti-italiano, anti-popolare, anti-democratico. Voi avete tolto il pane di bocca, il pane di bocca. Avete detto, o fai quello che dico io o muori di fame. Questo non lo può fare neanche un governo dittatoriale. Invece lo sta facendo un governo democratico appoggiato da tutti i partiti, da tutti i media, da tutta l'informazione. E la gente non sa niente perché l'informazione è blindata, è tutta nelle loro mani. Purtroppo questa massa di giornalisti ha venduto l'anima al diavolo e fa quello che dice il potere. Peggio per loro, stanno perdendo la faccia. Sia a Dio che intervenga, un'invocazione al Signore, alla Madonna di Loreto, perché aprono gli occhi al popolo italiano e spingono il popolo italiano a riconciliarsi, a essere degno di se stesso, a riconciliarsi con la propria tradizione italiana, costituzionale, libera. Non c'è la libertà della Costituzione. Infatti oggi la gente si è allontanata da Dio, la Costituzione viene tradita. Tutto il popolo italiano deve andare alla casa della Madonna di Loreto, tornare al padre e dire scusa papà, abbiamo sbagliato, abbiamo tradito la Costituzione, abbiamo tradito la tradizione italiana. Perché dietro questo tradimento, questo tradimento non è la causa del male, è l'effetto, è la conseguenza finale. Dopo decenni, dopo decenni di allontanamento dal bene, siamo arrivati a tradire apertamente, legalmente, noi abbiamo tradito legalmente la Costituzione italiana. Quale messaggio vuole lanciare agli italiani? I magi hanno scelto, i magi hanno scelto, hanno lasciato Erode, hanno seguito la stella, sono andati da Gesù e si sono salvati. Salvatevi. Aprite gli occhi, aprite gli occhi alla verità, non vivete nella menzogna. Aprite gli occhi alla verità, non vivete nella menzogna. Aprite gli occhi alla verità, non vivete nella menzogna. dove si sta sotto l'ultima, la mia pranzia è a voce alla warna, lo ma naturale, space attrava in metà, la mia pranzia è, dove si chiama,